Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Maggio alle 21 alla chiesa di Sant'Agostino vicino a Piazza Navona si tiene l'ultimo concerto per il Giubileo con brani gregoriani per l'ascensione, musiche di Palestrina e del moderno Messien. E poi gli studenti delle scuole medie e superiori possono fino all'8 maggio partecipare con elaborati di ogni genere al concorso nazionale Il Silenzio e Dolo siamo l'Italia che sceglie il coraggio, dedicato al tema della legalità e della lotta alla mafia.